E' in arrivo, è in arrivo Andrea Cardillo E' in arrivo Andrea Cardillo E' in arrivo Andrea Cardillo va a prendersi La settima edizione del trofeo Sant'Emilio Il torsore numero 28, tempo di un'ora Un'ora 29.53 Un'ora 29.53, è stato sotto 1.30 E' in arrivo Andrea Cardillo E' in arrivo Andrea Cardillo